Per la prima volta nella storia l'Istituto per le Opere di Religione apre le porte ai giornalisti. Una platea selezionata, circa una cinquantina, ha potuto infatti visitare la sede dello IOR in Vaticano, nel torrione Nicolò V che storicamente ospitava la prigione della Santa Sede. Due ore di incontro con il direttore generale dell'Istituto, Paolo Cipriani, con un obiettivo preciso. Lo IOR si presenta per comunicare in modo trasparente quello che è, ciò che fa e quali sono le sue attività. L'entrata è al cortile Sisto V, una porta a vetri fa accedere all'Istituto, uno dei luoghi più segreti, finora in Vaticano. Difficile accedervi se non sei un funzionario o un cardinale. All'ingresso sulla sinistra campeggia una grande targa dedicata a Pio XI, sulla destra l'immagine di Papa Benedetto XVI. Poco più avanti il mezzo busto di Leone XIII, fondatore dello IOR. Il direttore generale Cipriani accoglie i giornalisti nella sala degli incontri. Vogliamo aprire i nostri scrigni, esordisce, e operare nella linea della trasparenza. Una vasta sala circolare ospita gli sportelli per gli utenti, circa una decina per le operazioni di cassa e uno sportello per l'apertura di fondi. Una decina anche i bancomat allestiti in diversi punti della città del Vaticano, con una curiosità. Oltre alle consuete lingue per prelevare ed effettuare i versamenti, anche la scritta in latino.